Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video della serie di sopravvivenza Oggi con il nuovo snapshot installato, il 21V06A, che aumenta l'altezza del mondo Iniziamo subito Come avrete notato, installando il nuovo snapshot, tutti i vecchi mondi hanno la dicitura Che dice che il mondo non si può caricare, il caricamento dei vecchi mondi è temporaneamente disabilitato E allora com'è che io lo posso fare? Perché lo sapete, sono pieno di risorse e stamattina ho indagato e ho trovato il metodo funzionante Senza magheggi strani come quello che abbiamo fatto ieri in live per aprire il mondo lo stesso Se lo volete sapere dovete lasciare un like al video e a 6969 lemà o like Ve lo scrivo nel primo commento fissato qui sotto Lasciate like e vi svelerò il metodo per aprire il mondo Chiaramente ho fatto i dovuti backup perché fidarsi bene e non fidarsi è meglio Ma adesso siamo con il nuovo snapshot, come vedete in alto a sinistra, è tutto vero Quindi possiamo già buildare fino al limite del mondo Ma prima ragazzi vi devo far vedere un po' di aggiornamenti Avete già intravisto che l'ingresso alla stanza è ora completo L'abbiamo visto nell'ultimo video e adesso ho messo tutti i vari dettagli Questo tavolino è qui come placeholder perché vorrei mettere il cespuglio Di azalea più avanti, mi piace come idea Per intanto l'ho messo e come vedete ho messo un bel po' di cose Ci sono degli or, dei coralli, un item frame Ed è davvero un bel ingresso per una camera da letto, decisamente Arrivati qui in camera Ho fatto delle piccole novità che vi faccio vedere tra poco Ma oltre questa porta abbiamo un'altra zona grottosa Che ci ricollega all'esterno Mentre da questa parte ci fa salire tramite questa grotticina Quindi sempre casa scavata nella montagna style E passando attorno questa stalagmite arriviamo al soppalco Eccoci qua Insomma durante l'ultima live ho lavorato davvero un sacco Ho anche terraformato qui Probabilmente ho fatto anche cose che ora mi dimentico di dirvi Ah giusto, dobbiamo andare sotto Eh raga, perché qui ho corretto il soffitto Ne ho mascherato tutto E inoltre ho aggiunto delle nuove chicche nella stanza Perché ho ripristinato questo passaggio Che ora spunta dal pilastro Boom C'è una porta nel pilastro della struttura Che ricollega direttamente al magazzino Quest'altra porta invece nasconde un armadio Molto pratico Mentre di qui ho incastrato un armor stand Che fa da armadio dei vestiti Quindi qui ci possiamo mettere le armature E infine da questa parte abbiamo una scala Che ci fa uscire direttamente sotto i giardini pensili E ho creato un collegamento Che ovviamente è ancora da rifinire Che arriva al vecchio passaggio segreto Quindi un sacco di interconnessioni Sta uscendo davvero molto bene questo progetto E questa sera sarò in live alle 20.30 Proprio per continuarne insieme a voi Quindi vi aspetto il mio canale Twitch in descrizione Se passate e volete fare la sub gratis compra in gaming Ricordatevi che segnerò tutti i nomi Di tutti i sub che arrivano all'interno di questo speciale libro Che è quasi alla sua conclusione Ma ora ragazzi è il momento di sperimentare Una cosa molto interessante Infatti se noi andiamo in cantina Abbiamo il nostro cestino personale Che rompe la bedrock e che va oltre la bedrock Mentre gli endermen hanno solamente rotto i coglioni Guardate qui un altro blocco messo dagli endermen Che palle Teoricamente avendo abbassato la altezza Alla quale si può costruire Io in questo momento posso andare sotto la bedrock E buildare sotto la bedrock Quindi ragazzi Adesso con molta calma E senza magari failare Andiamo giù Eccoci qua E proviamo ad andare sotto la bedrock Una cosa che vi dico È che ci saranno dei colpettini di lag Perché comunque sia Abbiamo convertito forzatamente il mondo Cosa che non si dovrebbe fare Perché appunto Mojang la impediva di base Ma noi l'abbiamo fatto lo stesso Quindi Mi raccomando Se lo fate anche voi Fate i dovuti backup Io ho fatto come sempre Un backup del mondo Prima di fare questa cosa Io onestamente Non so ancora se terrò il mondo così O se lo usiamo solamente Per divertirci un po' Perché potrebbe essere molto rischioso Quindi detto ciò Scendiamo sotto la bedrock Ricorderete che Già prima dello snapshot di ieri Io ho costruito una base sotto la bedrock Utilizzando le barche E i polli appesi Ma ora ragazzi Possiamo Fare questo Buildare Sotto la bedrock E magari se mi porto anche dei blocchi Lo possiamo fare di più Quindi vorrei prendermi Ma direi della cobblestone Sciallissimo al momento Vi chiederete Come faccio a scendere sotto la bedrock In sicurezza È molto semplice Basta avere un bucket d'acqua Perché ora che il limite del mondo Non è più a zero Ma è a meno 64 Delle y Se mettiamo blocchi sotto Se mettiamo l'acqua Potremmo continuare a scendere Ci permette di creare Una sorta di ascensore E quindi in questo modo Io posso appoggiarmi E ad esempio andare a mettere Tutti i blocchi che mi servono Per costruire Sotto alla bedrock Ora Non voglio arrivare proprio al limite Che vi ricordo è Meno 64 Infatti Stiamo un attimo attenti Prima di fare Cavolate Però se arriviamo Tipo a meno 20 Possiamo crearci Una Piccola Piattaformina Adesso cerchiamo di Fare per bene Perché non sto capendo niente Possiamo andare a togliere l'acqua E in questo modo Abbiamo creato una piccola piattaforma Che possiamo utilizzare Per buildare cose La cosa davvero interessante Di tutto ciò Non è tanto Che si scende sotto la bedrock È che Chi di noi Avrà un mondo Di questo tipo Che Ha la bedrock Bucata Dalle precedenti versioni A un certo livello E in futuro Il livello della bedrock Sarà più in basso Avrà Sicuramente Una situazione così Dove possiamo Buildare Letteralmente Nel vuoto Noi qui sotto Possiamo fare delle robe incredibili Perché abbiamo 64 blocchi di spazio Ok magari Non così rischioso 64 blocchi di spazio Nel buio totale Possiamo creare Una situazione spaziale Una roba creepy Delle case al contrario Sotto la bedrock Possiamo creare delle robe Davvero assurde Inoltre Se andassimo Sto un po' rischiando Ma tranquilli Va tutto bene Perché sta piovendo Sotto Sotto terra What Beh succedono cose strane Comunque Ah Sta piovendo Nella grotta Beh Ok Forse non dovevo Usare questo snapshot Se non si poteva fare Va bene Ok Molto strano Mojang Molto strano Vi stavo dicendo Che di contro Se noi andassimo A cercare un nuovo chunk caricato Essendo che il nuovo chunk Sponerà con una Bedrock Quindi un limite del mondo inferiore A meno 64 Ci troveremo Davanti Sotto terra Un muro Di pietra Di 64 blocchi Quella cosa lì Sarà mega interessante Infatti sicuramente Ne dovremo cercare uno Ma l'altra grande domanda È Che cosa farai Con la torre E con la montagnona Custom Eh Ragazzi Bella domanda Perché qui Dovremo alzare tutto Per quanto riguarda La montagna Non ho ancora un'idea Ma Come vedete La torre Che era al limite del mondo Adesso può essere alzata Davvero parecchio Per la montagna Sono In depressione Perché Dovrò fare Una cosa Ancora più alta Se vogliamo raggiungere Il limite del mondo Per la spara invece Ho già l'idea Quindi noi adesso Possiamo buildare Fino ad un'altezza Di 320 E La differenza È davvero tanta Potrebbe non sembrare Ma è davvero tantissima Forse ho finito I blocchi giusto Esatto Ho finito i blocchi Nel momento esatto Vedete L'altezza ora È 320 E guardate Quanto in alto Si arriva A saperlo è passato Ma ieri i pianeti Li avrei fatti Molto più in alto Ma adesso Quello che potremmo fare Per alzare Il grattacielo Mio dio Quanto lagga Lo snapshot Con la pioggia Devo Dormirci sopra Appena possibile Quello che si potrà fare È sicuramente Allungare La lama Della spada Perché Quello che ho sempre pensato È che La nostra torre A forma di spada Insomma È molto bella Mi è sempre piaciuto Un sacco Però La lama Della spada Poteva essere Un po' corta Rispetto al manico E quindi Poteva risultare Come un pugnale O una spada corta Per l'appunto Allungandola Di 64 blocchi Verrà una spada Verra e propria Quindi semplicemente Dalla parte Fuori dal pianeta Andrò ad allungare La spada Fino ad arrivare Al limite del mondo E questa sarà L'unica torre Alta fino al limite Le altre due Le lascerò Più basse Perché Insomma Sono vecchie E meritano di Restare così Nella storia Mentre questa L'aggiorneremo E sarà la torre Più alta Di tutto il mondo E mentre Attendo la notte Per dormire Noto che La pioggia È un problema serio Forse sì Forse dovremo aspettare La conversione del mondo Per fare robbie serie Visto che Insomma C'è un albero In camera Però la pioggia L'avrei anche evitata Perfetto Ora che è finita La pioggia Possiamo avviarci All'ultima missione Vale a dire Lagare Esplorare E cercare I nuovi chunk Con La nuova profondità Bene Come potete notare Il caricamento Dei chunk Anche vecchi È molto lento Perché praticamente Ogni chunk Credo che si stia Caricando E convertendo Al nuovo snapshot Cosa che Andrà fatta Presumo Quando Mojang Rilascerà un metodo Ufficiale E non sicuramente Così Però laggando Piano piano Ci possiamo arrivare Quando saremo fermi Non dovremmo avere più problemi Dobbiamo solo cercare Dei nuovi chunk Dopo una bella volata Sono arrivato Al limite Dei chunk Caricati Che in questa direzione Non è neanche troppo Ho dovuto fare Insomma 3000 Blocchi Giù di lì E il problema E la delusione È questa Apparentemente I chunk Fanno molta fatica A caricarsi I chunk Che furono Già Caricati Apparentemente Si caricano Con lo snapshot Ma All'interno Del mondo Vecchio Anche avendolo Convertito Con La massima Accortezza I chunk Nuovi Non si caricano Questo sarebbe Un chunk Nuovo Come vedete È tutto vuoto Quindi non si genera niente Purtroppo E rimarremo bloccati Infatti Mi sono fermato Per tempo Altrimenti Con l'elitra Sarei Droppato Nel void E avrei fatto Crashare il gioco E qua Purtroppo Si interrompe Il nostro viaggio Ma ve lo prometto È solamente Per ora Prima o poi Ovviamente Arriverà il modo Per convertire Ufficialmente Mondi Ci riproveremo Anche al prossimo Snapshot E vedremo Se riusciremo A trovare Queste nuove caverne Nella survival E come sarà Il limite del mondo Perché A me interessa Anche Quella cosa Il limite Tra i vecchi Chunk E i nuovi Chunk Il muro Di pietra Che si Che si creerà Sottoterra Sarà davvero Molto figo Anche per Buildarci qualcosa O solo Da esplorare Quindi ragazzi Noi ci vediamo In live Questa sera Domani Con un nuovo video Un saluto Da Eren E da questo Chunk Bagliato Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti